Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia. Questo deve essere chiaro. Non è il governo di cambiamento che immaginiamo, quello che chiede Salvini. Cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il Movimento Cinque Stelle. Se questa è la sua idea, non può essere la nostra. Se stanno immaginando questo film, per noi questo film neanche esiste, perché il nostro obiettivo è mandare avanti le lancette e non mandarle indietro. Ovviamente se la Lega è interessata al cambiamento, io l'ho già detto, mi sono rivolto a loro, vengano al tavolo, discutiamo delle proposte per gli italiani e mettiamoci al lavoro per questo paese. Grazie. 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 Grazie.